E siamo qui in compagnia di Giuda Higuain, e volevo dire Gonzalo Higuain, come ti trovi alla Juventus? Eh, mi sto trovando abbastanza bene, passando per Roma mi so già imparato il dialetto, quello di Torino però non mi entra in testa. So contento a parte il fatto che prima dentro all'arbergo ho intruppato, so cascato e mi so scartavetrato la faccia sulla moquette, però l'arbitro ci ha segnato rigore per la prima giornata almeno. A Napoli mi mancherà parecchio, loro sono dei tifosi a parte, sono veramente forti e calorosi, per esempio hanno tutto un modo loro di salutarmi, mi hanno detto tutti i Kittenworth che è proprio un saluto loro locale, tutti emozionati mentre me lo dicevano, si sono proprio affezionati a me si vede. E sicuramente sono venuto qui non per soldi, ma perché la Juve è una passione mia da quando sono nato, e poi il bianco e nero mi sfina una cifra. Vuoi salutare tutti i tifosi? Sì, li saluto come mi hanno insegnato a Napoli, Kittenworth a tutti e Kabukin e Mamet. Belli regà, so Gonzali Guain, volevo dirvi che anche io da oggi farò parte dei doppiaggi coatti, e se vi è piaciuto il video mettete il like e condividete il video. La pagina verrà sbloccata questo 5 agosto e si ritornerà più coatti di prima. Belli regà! Belli regà! Belli regà! Belli regà!